e comunicazione di squalifica Giorgia Bartolomei Aquatic Center Montichiari squalificata per falsa partenza quarta serie Francesca Bugatti alla due, Alice Coriano alla tre, Gaia Molinari alla quattro Gaia Morini alla cinque, Sara Ambrosi alla sei, Elisa Alessandra Zanni alla sette e siamo al primo tempo di riferimento di questa categoria Elisa Bagnasco trentadue zero cinque